Santa Giuliana Dopo gli scontri con la polizia, gli occupanti sgomberati trovano posto all'abbà. Halloween a numero chiuso in piazza Aldrovanni, lo annunciano il sindaco e il questore. Intervista alla presidente di Tiper, Giuseppina Gualtieri. Ci stiamo preparando alla città 30 all'ora. Torna a Bologna il Gender Bender Festival, giunto alla sua ventunesima edizione coinvolti 11 spazi della città. Eurolega, la Virtus sfida l'alba a Berlino. Obiettivo? Continuare la serie positiva di vittorie. Buongiorno, benvenute e benvenuti al nuovo GR di Incronaca. In studio, Lavinia Sdoga. In redazione, Alessandra Arini e Matteo Pignagnoni. Lo sgombero di ieri all'ex istituto Santa Giuliana in via Mazzini 90. Ci sono stati scontri tra gli occupanti e le forze dell'ordine, ma continua la lotta del collettivo Luna per il diritto alla casa. Questa sera, la loro assemblea. Il servizio di Riccardo Benedetto. Hanno trovato ospitalità al municipio sociale Labà le circa 30 persone che ieri sono state sgomberate dall'ex istituto Santa Giuliana. Per loro, un pasto caldo e un letto in cui passare la notte negli spazi di Vicolo Bolognetti. Il collettivo Luna aveva occupato l'edificio di via Mazzini lo scorso 6 ottobre, trasformandolo in un alloggio per circa 50 persone, come ci spiega Tiziano Ghidelli dello sportello all'abitare di ADL Cobas. In nome di questa operazione ieri sono state gettate per strada oltre 40 persone, studenti e studentesse che vengono da lontano, cari, precarie, lavoratori dell'interporto, della logistica, persone che lavorano di notte nei magazzini, che di giorno devono dormire in stazione o sulla circolare di Bologna. Ieri c'è stata resistenza dentro e fuori da in-out per oltre sei ore. Ci sono stati momenti di conflitto che ci rivendichiamo pieno. Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, fumogeni e traffico in tilt hanno caratterizzato il presidio di ieri. Tra i feriti, due agenti e una ragazza di 25 anni, esponente del collettivo Luna. È stata colpita la testa e ha avuto bisogno di 6 punti. A portare solidarietà ai manifestanti, che contestano la vendita dell'immobile da parte delle suore mantellate serve di Maria, a una holding milanese che realizzerà uno studentato di lusso, anche il consigliere comunale di coalizione civica, Detion Begai. La lotta per il diritto all'abitare non si ferma davanti a uno sgombero vigliacco. La cronaca. È stato ricostruito il legame dell'attentatore di Bruxelles con Bologna. Nel 2016, Abdesalem Lasued si era fermato sotto le due torri per alcuni mesi, trovando ospitalità presso dei connazionali. Considerato come un soggetto a rischio radicalizzazione della polizia bolognese, aveva chiesto di regolarizzare la sua posizione e ottenere i documenti, ma la sua domanda a cui venne respinta e fu trasferito in un CIE di Caltanissetta. Halloween. Accessi limitati in Piazza Aldrovandi. Il sindaco Matteo Lepore e il questore Isabella Fusiello hanno discusso dei temi della sicurezza al salotto di Patrizia Finucci Gallo. A parlarcene è Amalia Picella. Dolcetto o scherzetto? Il comune sceglie lo scherzetto per la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, perché Piazza Aldrovandi sarà a numero chiuso. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Lepore, ospite del salotto di Patrizia Finucci Gallo insieme al questore Isabella Fusiello. È una delle misure per cercare di arginare la mala movida di cui si lamentano i residenti della zona universitaria, che nei giorni scorsi avevano minacciato provvedimenti legali contro l'amministrazione. Il diritto alla salute è importante, ha detto il sindaco. Questa non è una soluzione definitiva. Gestiremo l'afflusso con un contapersone e ci saranno navette per accompagnare i ragazzi fuori dal centro storico. Continua la battaglia delle lavoratrici da Perla. Anche oggi presidio all'ora di pranzo per avere risposte sul futuro dell'azienda. A supportarle anche l'attrice Donatella Allegro, protagonista di una performance davanti ai cancelli dell'edificio. Ospite ai microfoni di Incronaca, Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratrice delegata di Tiper. Tra i temi affrontati, Bologna Città 30 e la mancanza di autisti. In attesa del nuovo numero del 15, dove potrete trovare intervista integrale, sentiamone un breve estratto. Su Bologna 30, allora, sono in atto degli studi sul rispetto dei limiti. Temete che il servizio pubblico possa essere danneggiato? Quello che secondo noi va fatto, ed è quello che stiamo facendo, è un lavoro attento e accurato su quelli che sono gli impatti e le simulazioni quindi di un servizio di trasporto pubblico con quei limiti, ricordando che in alcune parti della città esistono già e che si tratta di guardare soprattutto le linee direttrici più delicate, più toccate. Il lavoro è in corso, io credo che le soluzioni si trovano insieme alle istituzioni, così come è sempre stato fatto quando sono stati decisi T-Days. Che piani o programmi avete per confrontarvi con il problema della carenza degli autisti? Allora, il tema della carenza di autisti è purtroppo un tema non solo nazionale, direi europeo, ed è un grande problema sicuramente. L'azienda, consapevole di questo, ha già due anni che lavora su questo tema. stiamo facendo assunzioni continue anche con progetti che consentono alle persone che sono interessate a fare questo lavoro di entrare in una prima selezione e se selezionati possono avere il pagamento della patente e della certificazione che è molto oneroso e avere dopo la garanzia del posto di lavoro. E ora passiamo alla cultura. Gender Bender, il festival del Cassero, torna a Bologna per 12 giorni di eventi e iniziative culturali. I dettagli nel servizio di Bianca Bettio. Gender Bender spegne 21 candeline. Il festival prodotto dal Cassero LGBT Center torna a Bologna portando con sé un grande fermento creativo. Tante le artiste e gli artisti internazionali coinvolti dal 31 ottobre all'11 novembre. Sono 11 gli spazi della città che accoglieranno le varie iniziative. È la prima volta dopo tre anni. Fino alla scorsa edizione, infatti, la rassegna si era tenuta al giardino del Cavaticcio del Cassero per colpa della pandemia. Il Gender Bender è uno degli appuntamenti più attesi nella nostra città che connette la città di Bologna alla scena artistica internazionale attraverso la responsabilità anche di un festival che non a caso è nato nella nostra città e che sa rendere visibile l'invisibile, cioè affrontare anche i tabù, gli stereotipi legati al genere, legati agli orientamenti sessuali, legati all'identità, legati alle felicità. Un progetto ad ampio raggio, unico nel suo genere in Italia, che propone eventi culturali differenti, da spettacoli di danza a mostre cinematografiche. Un festival fondamentale in un contesto come quello attuale, dove le discriminazioni nei confronti della comunità LGBT si verificano ogni giorno. Cinzia Cazzoli, responsabile dell'ufficio spettacolo dal vivo della regione Emilia-Romagna, ha citato a questo scopo un report dell'Università di Padova, secondo il quale l'80% delle persone che dichiarano di avere un orientamento sessuale diverso da quello binario ha subito discriminazioni. Basket, questa sera la partita di Eurolega tra la Virtus e i tedeschi dell'Alba Berlino al Paladoxa. Per noi, Alessia Sironi. Dopo la vittoria di venerdì scorso contro il Monaco e domenica su Trento, le Vunere cercano continuità. Il coach Luca Banchi spiega che la squadra entrerà in campo con un mood positivo, una buona determinazione e la giusta motivazione, con l'intento di evitare passi falsi, come quelli con i lituani del Kaunas. Anche oggi Achille Polonara non sarà presente dopo l'intervento per l'asportazione di un tumore del 10 ottobre. Per il resto squadra al completo. C'è fiducia in casa bianconera dopo gli ultimi risultati e le ultime prestazioni di Schenghelia. Per il team di Berlino finora due sconfitte in Eurolega. Nel ruster tedesco anche due italiani, Gabriele Procida, ex fortitudino, e Matteo Spagnolo. Per concludere, un breve aggiornamento sul meteo. È tempo di abbandonare le t-shirt estive e tirare fuori maglioni invernali. Nubi diffuse, frequenti piogge, brusco calo delle temperature. È così che i prossimi giorni segneranno l'avvio della nuova stagione autunnale. Questo secondo le previsioni di Arpa e Meteo e Mila Romagna. Termina qui l'edizione del giornale radio di oggi. Grazie per la vostra attenzione. Un saluto dalla redazione di Incronaca. Grazie a tutti. Grazie a tutti.